Lenzio, fermi tutti, grazie a voi. Dottore, suono Gira. Il Natale è... Come si dice? L'amiglio. Natale, allegria. Meraviglia. Abbiamo l'albero altissimissimo. La meraviglia della vita. La tavola è lunga, 400 milioni di euro. Più o meno, due città. Tutto questo camp è grande. Con mamma, mamma, quattro zii e sei, sette cugini. Io e papà ci mettiamo sul divano e guardiamo la partita a Natale. E' quando si ride talmente tanto che poi fa male la pancia. Merry Christmas! kakam, io e te puoi. E se non per qua male la wedding. Il Natale è anche il presidente di Dio Mstan עesso.